Mm цен denta Agriculture! Figure di Merda Ai ai Ema porca puttana Daphson, ma sembra quella cazzo di finestra da non entrare No 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 non ci credo C'è sono 6 mesi che stiamo insieme e tu ancora ti fai le teghe col cinema ora che diventi cieco non puoi vedere più nessun film no no io io ora chiamo Peso pronto Peso preparati sfogliati sto arrivando pippaiolo di merda for all lives to be over will it be yes or will it be sorry he showed up all wet on the rainy phone step wearing struggles in his skin and the world he saw lives inside him still it's so hard to be chained till I'm one the years pass by and now we have to I don't want to wait for all lives to be over I want to know right now the world he gives me for all lives to be over I want to wait Grazie.